C'è tanto rammarico nel tuo volto per questa sconfitta? Eh sì, c'è tanto rammarico perché abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ci sono stati un paio di errori, però subito rimediati da parte di tutti. Ed è quella che è stata la nostra forza nelle ultime partite. Abbiamo avuto un gran carattere. Oggi penso che abbiamo avuto delle buone idee di gioco. E dispiace, dispiace perdere una partita e ancora più un derby così. Senti, sotto porta si fa sempre troppa fatica. Si fa fatica ad arrivare, soprattutto a trovare il guizzo vincente. No, vabbè, ma penso che abbiamo dei giocatori che il loro passato parla per loro. Quindi ci sta un periodo del genere, ma sono convinto assolutamente che questa cosa qua si sistemerà. E aggiungo anche che qualche gol magari di noi difensori farebbe comodo. Quindi un po' tutti dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Ti stai candidando per domenica prossima? Speriamo, dai. Speriamo. Sarebbe male. Sarebbe l'ora. Il cielo di testa infamirà quello portiere. Calcio bene infamirà quello portiere. Ho preso l'attraverso e rovesciato. Però io mi sembra di farla girare. Perché solo noi possiamo farla girare, dai. presto skillati, vabbè. cinza quero è per 1991. Vediamoţbere tutto il testo. Vediamo ora. Vediamo io parenting. Vediamo. Vediamo adesso in tutto questo domingo ligato.